Questo Natale cambia musica! Per il regalo perfetto lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Ancora due giorni e il 2016 si avvierà la conclusione, ma quali sono i suoi desideri e sogni per il 2017? Spero che sia meglio per tutti. E per te cosa ti auguri? Trovare un bel lavoro. Ah, wow! Non lo so, spero che sia migliore di questo 2016 per quanto riguarda tutto. Perché io lavoro in un bar qui in centro e comunque anche quest'anno abbiamo visto che è andato bene. Spero che si riveli migliore il prossimo. Per te stessa invece cosa ti auguri? Per me stessa? Non lo so, io ho già un sacco di progetti in attivo per me stessa, come si può vedere dal mio fantastico sorriso cintillante. E quindi spero che vada tutto per il meglio e di riuscire in quello che sto cercando di fare. E abito a due passi dalla libreria, quindi direi che la cosa va perfettamente, visto che leggo un sacco. Quindi spero che... Vorrei dare un messaggio alla gente, leggete gente, leggete, che è un mondo meraviglioso. Mi auguro che sia migliore del 2016. Perché? Perché è stato un anno del cavolo. E quindi mi auguro che sia migliore per tutti, dipendentemente dalle persone. Nello specifico è stato un anno del cavolo perché? Un mare di stravolgimenti, positivi e negativi a random, perdite gravi. Non è stato un bell'anno, comunque sia... Pesce di così non si può andare, quindi sarà sicuramente migliore.